Musica Diciannovesima edizione di un evento che mette insieme moda, arte, ambiente e enogastronomia. Siamo qui, dietro di me vedete un'esposizione di alcuni dei vestiti e degli oggetti che Sfilata Frasso fa, perché Sfilata Frasso in ottobre è anche Sfilata Frasso. Musica Ci sono delle aziende agricole che vengono qui con i loro prodotti, un convegno sull'ambiente, il tema sarà territorio e sviluppo sostenibile. Poi ci sarà un aperitivo letterario dove presenteremo un po' il nostro territorio con due libri, Città scomparse della Sabina e un libro di Aldo Masciangelo invece dedicato esclusivamente a Frasso e al territorio di Osteria Nuova. Frasso in ottobre è una grandissima manifestazione per noi, è giunta la 19esima edizione, abbiamo dedicato proprio alla sostenibilità ambientale, abbiamo proprio parlato e toccato i temi dell'ambiente, dell'iniziativa del ministro dell'ambiente Plastic Free, abbiamo parlato del contratto di Fiume Farfa con alcuni protagonisti, anche Stefano Fassone di Italia Nostra e con Monica Facchin di Legambiente della Bassa Sabina. Io sono stato invitato per parlare di un percorso che è nato adesso sul contratto di Fiume del Farfa, che ha coinvolto moltissimi comuni, tra cui primo firmatario, tra i primi firmatari anche il comune di Frasso Sabino, progetto che serve a tutelare su ampia scala il bacino grafico del Farfa e promuovere la tutela delle risorse acqua sul Farfa. L'impegno dei sindaci sul territorio è fondamentale, soprattutto se riescono a ottenere risultati come ha fatto Frasso in questi anni. Noi parleremo della nostra attività come Circolo Legambiente Bassa Sabina, di tutto quello, di progetti che stiamo portando avanti in questi anni, poi soprattutto nelle scuole. Abbiamo due progetti principali, uno riguardanti i rifiuti e la raccolta differenziata, è un altro che si chiama educazione alla bellezza. Il primo chiaramente è molto facile da intuire il percorso che stiamo portando avanti con i ragazzi delle scuole. Speriamo di far crescere in loro una consapevolezza che poi si possano portare dietro nel tempo, nel loro futuro, e quindi far sì che al di là di quello che poi le famiglie possano dare più o meno di concetti riguardanti l'importanza dei beni ambientali, però poi si rendano conto che effettivamente anche loro possono fare qualcosa di concreto per il loro benessere. Questa sera l'intrattenimento musicale sarà organizzato da questa band che suona musica Dixie, quindi veramente quello che era il jazz nel suo primo esordio. Si tratta anche di una marching band, quindi una band che riesce anche a suonare senza l'uso di nessun tipo di amplificazione, perché era proprio una band che all'epoca si suonava marciando in giro per le città. La musica è molto allegra, molto divertente, la maggior parte degli strumenti appunto sono acustici, e vi presento il direttore della band, il maestro Raffaele Gaiz. La band ha una storia decennale, il suo nome è Old Dixie e Swing Band, perché facciamo sia Dixieland come questa sera, ma suoniamo anche Swing. Abbiamo partecipato a manifestazioni soprattutto su Roma, come per Emergency oppure Race of the Cure, manifestazioni di beneficenza importanti, ma poi facciamo anche eventi in tutta Italia. Ci piace contaminare queste manifestazioni con la musica, quindi l'associazione è presente, è a sostegno sempre della Prologo di Frasso Sabino, del Comune, e ringrazio in maniera particolare anche Serena Benedetti che ha organizzato questo evento, questo tema che è del green, abbiamo pensato di accompagnare il riciclo con una musica swing, una musica particolare, una musica che effettivamente un po' ricorda anche i materiali che un po' di tempo fa utilizzavamo, dalla radio in poi, che potevano essere il vetro, piuttosto che le lattine, piuttosto che qualcosa che dovremmo cominciare a riutilizzare. E quindi niente, ho pensato che lo swing effettivamente con i suoi vestiti, con la sua stoffa, con i suoi colori, potesse accompagnare con le sue note musicali questa manifestazione. Da poco è mancato un grande amico, prima di tutto, è anche un maestro eccezionale, che era Francesco Falcioni, ci ha accompagnato in questi anni con Frasso Musica, mi ha anche molto aiutato, voleva essere un artistico poliedrico, quindi spaziava un po' tutti i generi, e un saluto particolare, Francesco che ci guardi, accompagnaci. Abbiamo questo spazio, che è un grandissimo spazio, che utilizziamo per il mercato, ma per queste manifestazioni veramente, come vedete, si presta tantissimo, anche per la sicurezza che c'è, per le luci, l'ambiente, la copertura, e anche molte persone che possono raggiungere i parcheggi con le strade che ci sono. Sabina è importante convincere i sindaci, che tra l'altro sono eletti dal popolo, poi riuscire a convincere anche i cittadini è un passo importante. Io mi sono accorto che in certi comuni c'è sia popolazione sensibile, sia amministrazione sensibile, in altri c'è meno sensibilità, comunque sia l'importante è cercare di interloquire con i sindaci, sperando di trovare sindaci lungimiranti, chiaramente. L'Asa Frassumo del Riciclo quest'anno ha come obiettivo quello di allargare un po' i propri orizzonti. L'anno scorso abbiamo iniziato invitando artisti di altre regioni italiane, io qui ho un abito fatto da una signora della Basilicata che ha deciso di partecipare a Sfilata Frasso. Quest'anno guardiamo ancora più lontano e vogliamo andare a Lisbona, vogliamo andare in Europa, cercare di portare questo messaggio e invitare tutti gli artisti internazionali che si occupano di riciclo e moda a partecipare alla nuova edizione di Sfilata Frasso, che ricordo essere l'11 e il 12 luglio a Frasso Sabino. Il libro parla della storia, del folklore, del territorio, di tutte le sue sfaccettature. Archeologicamente parlando, questa è una zona molto ricca, credo che sia la zona più importante della Sabina. Tant'è vero che abbiamo un monumento storico, che è la cosiddetta Grotta dei Massacci, che altri non è che un sepolcro romano, vista la sua composizione. Ma quello che è interessante ed importante è un sepolcro unico nel suo genere. è composto di pietre a intaglio, cioè non c'è un'amalgama particolare, sono tutte pietre a intaglio e incastrate l'una con l'altra, soprattutto con volte a crociera. Quindi è qualcosa che non si trova. Da quello che abbiamo visto, da quello che abbiamo potuto studiare, abbiamo un esempio di pietre a intaglio, ma addirittura nel VI secolo, con il monumento di Teodorico, che sta a Ravenna. Ma è un'eccezionalità. Prima c'è questo, che appunto, come archeologicamente parlando, è un unicum del suo genere. Si parla di Sabine, si parla appunto di città scomparse, quelle che hanno caratterizzato il nostro territorio e che allo stato attuale sono scomparse, ma non così tanto, perché l'archeologia riesce a recuperarle. Insomma, i professionisti riescono ad individuarle attraverso uno studio di equip e in questa sede, onorata appunto di presentare il volume, parliamo appunto di città scomparse della Sabina. La Prologo ha contribuito in questa manifestazione con tutta la parte organizzativa, la parte enogastronomica, si è occupata dell'organizzazione vendita generale e della preparazione dello stand gastronomico. La Prologo pone molta attenzione al tema dell'ecologia e quindi del riciclo e lo promuove attraverso anche Sfilata Frasso, che è il nostro evento principale. Puntiamo il prossimo anno alla ventesima edizione, cercando di dare sempre il massimo e di creare sempre una festa importante per il nostro territorio. In questo momento stiamo cercando di distingere più il formaggio per l'acquagliata, diciamo, per fare la forma di formaggio. Questo collatto è prodotto nelle montagne del Cicolano, da un'azienda ormai rinominata da moltissimi anni per la produzione di formaggio e ricotta e negli ultimi anni questo prodotto si è esteso anche in modo internazionale, perché il prodotto è buono. Ormai questo è un processo che è andato ormai estinto, però che a noi ci piace molto, perché la forma di formaggio fatta in questo modo è la migliore, perché anche nel modo per trattenerlo, per portarlo anche a essiccazione, è un modo più elementare che ci sia. Devo ringraziare assolutamente la Proloco di Frasso Sabino, che organizza l'evento sia Frasso in ottobre che Sfilata Frasso Moda e Riciclo. In particolare Frasso in ottobre è stato sponsorizzato, è promosso e finanziato dalla Regione Lazio con il bando Lazio delle Meraviglie e ovviamente dobbiamo ringraziare il comune di Frasso Sabino, che ha il patrocinio di entrambi gli eventi. Grazie per la visione!